Riesco a vederti? Ok, grazie. Vado a parlare un po' di questo traballo che fanno la WebToken, Profitto, che c'è una comunità globale per i consumitori di unità WC di Acconte. Quindi, le monette che loro usano si chiama WC. C'è un prezzo per una moneta in dollari, c'è un prezzo in WC, che può essere di 5 o 9. So, dependent rating. Passo al prossimo. Sul progetto. Puoi vedere? Magari sì. Io vado a leggere un po' per voi. sul progetto. WebToken, Profitto, riusci persone di tutto il mondo offrendo loro l'opportunità di generare rendito passivo e attivo. WC è la criptovalutà. Cresce costantemente di presso uno strumento finanziario per investimenti a lungo termine. La missione del progetto è quella di utilizzare WC per insegnamenti reciprochi in tutta l'area di consumi disponibili. Passo al prossimo. che parlo di pietre miliare chiave nel sviluppo della comunità di WebToken Profitto. So, qui ce li amo qualcuno più antichi che puoi dare qualcuno mai dettagli in cosa sei e come comprendere come funziona questa comunità. So, primo punto parla della idea di costruire la piattaforma di come era costruito e quando ha iniziato nel terzo trimestre del 2018 e parlo dei principali aspetti del blockchain con elevata speranza in progetti del successo come ha iniziato fatto l'analisi della piattaforma e tutto questo e dopo vediamo un po' del WEC in piattaforma di scrittografia quindi passo al prossimo che vediamo qui l'immagine della moneta della nostra piattaforma del profitto di WebToken so in questo vado a parlare un po' che la moneta WEC viene utilizzata come strumento di pagamento sulla piattaforma di WebToken WebToken che viene creato sulla propria blockchain che è il numero che c'è un numero totale di 20.000 qualcosa di WebToken e il numero di moneta WEC è un valore contente e non può essere aumentato è stato risolto da una smart partinente contare tutta la transazione creata durante l'acquisto della vendita di beni tramite WEC interagiscono con il contratto intelligente il contratto intelligente garantisce sicurezza trasparenza protezione della transazione parliamo allora del strumento per fare soldi magari passo al prossimo qua vediamo ok qua dicono solo che Web è una piattaforma di scrittografia per il profitto del token Web quello che ho già parlato passo al prossimo aspetta un minuto che vedo se non sto parlando più avanti di qua sono quindi torno per qua strumenti per fare i soldi so c'è la piattaforma di investimento il programma di appiazioni di marketing analisi del mercato degli investimenti sviluppo del trend inoltre una delle linee guide importanti per gli sviluppatori di queste aree è la possibilità di entrare passive di entrate passive progetti web token profit andiamo per prossimo qua puoi vedere che c'è ai progetti che fanno parte rileggero un po' più che dici così l'agenda fornisce costantemente ai suoi partner nuovi strumenti piattaforme e servizi al momento molti di loro sono già attivamente utilizzati dal lavoro quindi sono il binario WTP cripto acceleratore rapporto a Aureon coin galaxy bot de profito presso la piattaforma di trading diesel market o molti altri servizi tradisi iniziano a lavorare in agenda facciamo l'altro cifre e fatti web token profitte ha iniziato la sua attività in febbraio di 2019 un anno fa ci sono un anno di tanti lavori bravo che stanno facendo bene abbiamo più di 15 mila parte che ci sono già uniti a noi di investitori di 32 paesi stanno già guardando con web token profitto anche occupa la prima posizione nel mondo dell'investimento in criptovalutà offriamo ai nostri investitori diversi piattaforme loro schelta gli investimenti minimi per questo sono di 30 dollari quindi sono 29 qualcosa in euro in termini di investimento dipendono dal progetto che iniziano a 30 giorni a 350 giorni i profitti del progetto si basano sul trasso i diversi i soli storsi dei partner quindi ce l'hai anche la percentaglia annuale il programma di marketing consentono parte negli attivi del guardare molte volte di più quindi puoi anche sempre tornare e vedere come vanno gli investimenti puoi vedere anche grafici per sapere di quanto stai facendo per mesi o cosa si passa oggi ho avuto un messaggio che anche parla che penso che settimana scorsa la moneta ce l'hanno una qualità di 5 dollari e penso che a questa settimana vanno a 9 e questo mostra che c'è un grande profitto investire in questo perché se investono 30 dollari che sono 29 qualcosa in euro vediamo poi che settimana a settimana puoi accompagnare il grafico e vedere quanto più soldi tu hai in suo conto in WEC quindi è un buon investimento di forma passiva o attiva in chi investi e ce l'hai un ritorno in più per te passiamo al prossimo parlano del proposito della comunità WTP utilizza solo strumenti finanziari efficaci e promettenti nel suo lavoro motivo per cui la comunità del progetto è una delle agende in più rapida crescita oggi diverse decine di lingua sono utilizzate nel gruppo e nel chat WTP secondo il piano dell'agenzia nel prossimo futuro webinar e presentazioni su terreno in cerca sento lingue e i nuovi partecipanti del progetto saranno in grado di unirsi alle comunità da WTP locali esistenti in tutti i paesi del mondo quindi noi abbiamo già parlato che stiamo ancora in 32 paesi lasciami solo vedere sì 32 paesi che Web token profitto stanno lavorando e aspettiamo in futuro prossimo di stare in quasi tutto il mondo e questo sarà una grande conquista per la nostra compagnia per questo lavoro e di più che cresci e di più che questi investimenti saranno con su investimento o questa monetta vecchia si può dare mai il suo valutato passo al prossimo vantaggi della collaborazione con Web token profitto per questo sono buoni so prima lavorare con un team di professionalisti nel campo delle tecnologie di tendenza sì tecnologie di tendenza perché questo team c'è una evoluzione che accompagna con la tecnologia e quindi tutto che sviluppa in come lavora va intorno della tecnologia e posso anche dire professionalmente che c'è una team che è bastante professionale che sono serie non c'è cosa che cambia non c'è non c'è come posso dire è che è tutto in vista tu puoi andare indietro da piattaforma e puoi vedere cosa è successo cosa che lo fanno con i soldi che sono investiti posso anche dire che è trasparente e così va bene perché se lo puoi vedere tutto lo saperò che non c'è niente cattivo e puoi confiare puoi stare firme di questo passiamo al prossimo punto che è un chiaro piano di sviluppo dall'agenzia e di funzione delle obiettive per la ARI può renditività garantita e marketing molto libero sempre implementazione delle sue criptovalute del WEC stavo parlando un'altra volta che settimana scorsa la valuta del WEC coin erano 5 dollari e questa settimana è 9 se quindi parliamo dell'implementazione della sua criptovaluta quindi ce l'hai questa garantia di che crescono e se questo valore del cripton moneta cresse anche cresse il soldi che ha investito in questo progetto in questo progetto sottorniamo qua e passo al prossimo magari diciamo al 10 e 11 qui Web Token Profit diventa parte della comunità o comunità Web Token Profit è il primo progetto al mondo come abbiamo parlato in cui la tecnologia blockchain mira a migliorare l'ecosistema del commercio internazionale e della spesa dei consumitori il Web fornisce transparenza abbiamo già parlato di questo sì della catena di approvvigionamento tacciabilità finanziamenti commerciali il modello economico della piattaforma Web di Token Profit aiuta a difendere gli interessi di tutti i partecipanti al commercio internazionale e a condividere i dividendi che comporta l'uso della tecnologia blockchain la missione della piattaforma è quella di consentire a che alcuni utenti di svolgere automaticamente attività legale all'acquisto e vendita di beni cripto valuta va cripto valute i servizi tramite web quindi con queste parole siamo finiti di questo questa piccola presentazione di quello che è la web token magari se ce l'ha qualche dubbio o qualche domanda di fare puoi vedere che ci sono dei messaggi sotto in cui puoi andare in contatti o puoi parlare con noi su telegram e anche la pagina in sebook aspettiamo tutti voi aspetto che si piace lavorare conosco o fare parte di questi investimenti ti saluto a tutti ciao